bene cari amici siamo tornati siete tornati saltate sul divano doveva andare tutto bene è andato tutto benissimo ce l'abbiamo fatta perché la bandiera italiana perché dobbiamo parlarvi di dr e mai come adesso e ve ne siete accorti parliamo italiano parliamo di un prodotto italiano parliamo di dr a disegno e molise dove siamo in auto standard corso trieste 96 a moncalieri e corso vercelli torino nord poi vi diremo tante altre piccole cose seguiteci saltate sul divano allontanatevi dal frigorifero della cucina stiamo ripartendo siamo ripartiti non ci siamo mai fermati auto standard andiamo dentro oh bene willy questa è la dr zero benvenuti in auto standard bentornati in auto standard vi ho detto che non ci siamo mai fermati e abbiamo ottimizzato e preparato le concessionarie per voi in osservanza al decreto anti cove detto questo la gamma dr facciamo un riassunto perché è giusto che vi ricordiate cosa fa la dr produce queste autovetture deliziosa disegna nel molise quindi siamo in italia sono italiane ecco piccolo willy questa è la dr 0 la dr 0 cosa di importante mille di cilindrata ai gpl consuma poco costa poco 6990 euro con il gpl non pagate il bollo per cinque anni e questa è la dr 0 6990 euro facciamo un rapido upgrade dr 3 eccola qua bella rossa arancione azzurra grigia dire 3 veramente deliziosa cosa la dr 3 di importante che un mille e cinque di cilindrata ai gpl consuma poco e anche qua possiamo mettere il prezzo in sovimpressione 16 mila 400 euro con il gpl dr 3 saltiamo saltato sul divano seguiteci willino questo ti piace la dr 4 dunque la dr 4 rispetto alla dr 3 come vedete un po più grande willy ci sta molto bene ci staranno bene i vostri amici animali pappagalli cocorite coccodrilli chiunque vogliate portare la dr 4 è un 1.6 di cilindrata la dr 4 come tutte le dr e full optional ma full optional veramente il tetto apribile ora lo vedete gli interni sono in pelle a quattro telecamere climatizzatore automatico cerchi in lega e soprattutto è costruita molto bene vogliamo parlare di soldini 17 mila 900 euro la vedete su strada con il gpl ve la mettiamo nel garage e questa è la dr 4 facciamo un saltino avanti seguimi enrico e questa willy cosa ne pensi vieni giù facciamola vedere la dr 5.0 è una novità falla vedere davanti dietro di fianco willy ti piace ecco la dr 5.0 è completamente nuova è un 1.5 di cilindrata cosa vi devo dire venitela a vedere venitela a provare ne varrà davvero la pena perché qua con il gpl full optional gli interni sono in pelle il tetto apribile climatizzatore automatico telecamera di retromarcia questa autovettura con anche i cerchi in lega 19 mila e 900 euro non è bellissimo willy gliela vogliamo far provare ai nostri amici venitela a provare saltate fuori dal cucinino lasciate perdere le provviste è il momento di dimagrire ritorniamo in casa di erra ritorniamo in auto standard e ora enrico possiamo far vedere già che ci siamo anche la dr 5 la evo la dr 5 evo classica eccola qua ruota di scorta esterna bella questo è un piccolo carro armato lo sapete che un piccolo carro armato ve lo dico io dr 5 evo eccola qua con il gpl 15 mila e 900 euro ora però dobbiamo far vedere questa novità novità importantissima attaccate la spina alla corrente la nuova evo electric nuova evo electric distribuita da dr ragazzi 330 chilometri di autonomia amici miei scrivi lo anrico 19 mila e 900 euro perché 19 mila e 900 euro perché c'è un contributo statale di 4 mila euro c'è un ulteriore contributo se avete una qualsiasi vettura da rottamare ve la rottamiamo 2 mila euro c'è un supporto restart stiamo ripartendo voglio ripartire l'autostanda vorrei ripartire di 2 mila euro totale 19 mila 900 euro finiamo con la dr 6 e questa è la vettura preferita da willie vero la dr 6 perché preferita perché guarda come ci sta bene willie e ci staranno bene tutti anche i vostri animaletti carini domestici la dr 6 cosa la dr 6 di straordinario davvero è bella non lo dico io tanto per dirvi una bagianata venitela a vedere sarete d'accordo con me la dr 6 anche questa con il gpl a 150 deliziosi cavalli agli interni in pelle tetto apribile e la miraglia di casa dr venite la vedere venite la vedere quando è ora qua riassunto delle puntate precedenti auto standard corso trieste 96 moncalieri auto standard corso vercelli 429 torino nord bene ciao amici grazie grazie da me da willie da tutta l'auto standard vi vogliamo vedere ci siamo sempre veniteci a trovare siamo ripartiti non ci siamo mai fermati ciao